Altra variazione sulle planche, adesso facciamo con le braccia tese, di nuovo un minuto, questo punto, quello che dovete provare di fare è prendere un bel appoggio tra la terra, tra le mani e i piedi, sollevo e porto la gamba destra in avanti, portate le gambe destra in avanti, proprio tira dentro l'abdome con tutto voi stesse, ok? E faremo 30 secondi per gamba, ok? 30 secondi per gamba, ci manca ancora 5 e 4 e 3, 2 e cambia la gamba, vai, in avanti, sollevo, tira su, come se stessi provando di portare il ginocchio fino al tetto, addominali tesi, sorridete perché state facendo un bel lavoro, trattiene la posizione, ci mancano ancora 10 secondi, vai vai vai, 10 secondi, ci mancano 5 secondi, solleva, trattiene l'abdome, tieni la posizione, ok? Appoggia e passiamo al prossimo esercizio, eccellente! E subito in posizione per la planche laterale, invece questa è una nuova planche laterale in quanto portiamo in avanti il fianco, ok? Da sotto una torsione in avanti, in avanti, tiro, addominali tesi, una bella torsione, in avanti, ancora, tira in avanti, ah sì! Ok, siamo a 20 secondi, se dovete interrompere, interrompete, le minuti che riuscite a buttarvi nella mischia, fatelo, ok? Allora, recuperare va bene, ma non utilizzarlo come scusa per non ricominciare, ok? Ancora, ci siamo giù a 25 secondi, in avanti, in avanti, in avanti, sollevi, sollevi, spingi in avanti, ok? Continui, vai 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 vai, abdominali tesi, sente il lavoro sulla plancia, ci mancano ancora, 10 secondi da adesso, continui, continui, dai! Ok, anche se ti sei recuperato, ha preso il recupero, buttati nelle mischia per l'ultima, 3, 2, 1, cambiamo esercizio! Andiamo dall'altra parte, subito sollevo, ok? Minuto da adesso, portando in avanti il fianco interiore, ok? Porto in avanti, porto in avanti, ok? E la cosa importante quando lavori all'abdominale è di dare il meno recupero possibile, ok? L'abdome lavora sempre, e devo dire che se allenate tutti i giorni addominali, i risultati non tarderanno a farsi vedere, ok? A arrivare, chi dice che serve soltanto la dieta sull'addome, sto dicendo frottole, perché se ti eleni l'addome, l'addome si scolpisce, ok? Ovvio, anche l'alimentazione incide ragazzi, però se non fate mai addominali, come potete pensare che questo grande gruppo si rasoda, ok? Mi piace tantissimo, tantissimo mi piace le plance, perché le plance mi permettono di lavorare senza strassare il collo e la schiena Continuiamo, dai, in avanti con quel fianco, in avanti con quel fianco, continuiamo Dai, 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 spingo in avanti, spingo in avanti, tira, tira Ultimo in dieci secondi, vai, 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 dieci, ancora E l'ultimo in cinque, quattro, tre, due, uno, and relax, passiamo sul prossimo esercizio Io adoro la plancia, la plancia è un esercizio che ci permette veramente di fare tantissime cose Perché innanzitutto elimina il problema di avere il dolore sulla schiena quando ti stai facendo l'abdominale Allora, facciamo la prima plancia Allora, posiziono per un minuto questa posizione, che potrebbe essere allungata Però, di solito, tra un minuto e l'altro, io posso spostare il movimento della plancia Allora, tiro su gli abdominali Applico una piccola pressione tra i gomiti e i piedi Che si stanno proprio come avvicinando Proprio una piccola trazione, gli abdominali sono molto tesi Tiro su i fianchi, tiro dentro l'abdome Ok? E lo proviamo di tenere al massimo un minuto Si può interrompere già a venti secondi Siamo già a trenta secondi, ragazzi, complimenti Ok? Continuate a tenere questa posizione Andiamo avanti per trenta secondi Ok? Continuate Ci mancano quindici secondi Ci siamo quasi, ragazzi, tenete gli abdominali belli Belli Taisy, taisy, taisy Ok? Ci siamo Saranno l'ultima Cinque Quattro Tre Due Uno E relax Ottimo Passiamo al prossimo esercizio Questa è una palancia un po' diversa Che ci solleviamo Ok? E tratteniamo la posizione Semplicemente tratteniamo la posizione Ok? Abdominali tesi Ci è giusto anche con la schiena Con la parte posteriore della gamba Tratteniamo la posizione Chiedo a mio marito di aiutarmi a capire quanti secondi abbiamo L'ancore 40 secondi per favore Trattiene gli abdominali Perché non posso guardare il mio orloggio in questa posizione Spale indietro Indominali tesi Trattenete tutto Perché gli esercizi in isometria sono meravigliosi Allena un po' tutto Tutto il sistema Continuate Continuate Marito quanti? Quanti? Ha manco da 15 secondi mi dice Ok? Dietro la telecamera si sta allenando anche lui 10 9 8 7 6 5 4 3 2 E relax Passiamo al prossimo esercizio Il yoga si chiama boat pose Allora sollevo le gambe da terra E noi dobbiamo provare a trattenere la posizione Ok? Tengo su E scendo giù Abdominali tesi E su E scendo giù E su E scendo giù Se le volete rendere ancora più difficili potete mettere una superficie instabile sotto i glutei tipo cuscino In questo momento ho una superficie non tutta omogenea e di conseguenza per me è più difficile mantenere l'equilibrio che è eccellente che vuol dire attivo più fibromuscolari E scendo giù Continuando su E giù Dominali più tese possibile Su E giù Ancora due volte E giù E ultima E scendi Eccellente Andiamo sul prossimo esercizio E E Grazie.